Pavia Play TV, accendi il tuo territorio. Siamo in diretta dal Ponte della Libertà sul Fiume Ticino, dove fra pochi minuti dovrebbero partire le prime imbarcazioni del 71esimo raid Pavia-Venezia. Intanto vedete, stanno mettendo in acqua le prime moto d'acqua che gareggeranno dalla classe dedicata. Clima sereno, giornata con sole, livello dell'acqua ottimale, come l'ha stato detto già nei giorni scorsi, livello che ha potuto far partire finalmente il 71esimo raid da Pavia dopo tanti anni. che non poteva più partire e che era partito da più a valle, proprio per problemi di carenza idrica. Ricordiamo che partiranno prima i veicoli più lenti, mentre i racer più veloci e più potenti partiranno verso la fine. Le partenze saranno scaglionate, in teoria, dalle 7.30 fino alle ore 11.30. Quindi, mattina di raid spettacolo sul fiume Ticino a Pavia. Ci sono già alcuni spettatori vicino all'imbarco della motonautica. Adesso proverò a scendere e a raggiungerli per provare a vedere le prime imbarcazioni che fra poco dovrebbero prendere il dio. E state collegati con noi per maggiori informazioni nel corso di questa lunga mattinata di Sport Motonautica. E ora siamo in Rival Ticino, proprio vicino alla sede della motonautica. I concorrenti sono già in acqua e si preparano alla tappa di trasferimento da Pavia fino a Ponte della Becca, dove scatterà invece la prima vera tappa importante, per molti anche la più decisiva che potrebbe essere impegnativa e quindi decisiva, quella da Pavia, da Ponte della Becca fino a Isola Serafini, dove il fiume Po con le sue anse, una sonatura un po' selvaggia, potrebbe riservare le insidie maggiori di questa corsa di 413 chilometri che arriverà fino a Chioggia, attraverso il fiume Ticino, il fiume Po, il canale Po di Brondolo. A Chioggia saranno proclamati i vincitori per classe, tra i vincitori assoluti e poi soltanto loro, questi ultimi vincitori, con i vincitori della Coppa Teo Montenera, proseguiranno in parata trionfale verso l'arsenale di Venezia, dove stasera alle 18.30 si trattano le premiazioni. Si posizionano intanto i primi piloti a bordo di Moto d'Acqua sotto il Ponte della Libertà. Aspettatori e addetti ai lavori camminano l'inizio della 71esimo ride di motore autica a via Venezia. Tanto sono state posizionate anche un paio di marcazioni più grandi, che è stata di un gommode, il primo, che correranno in una classe specifica. Ora vediamo la barca numero 14, che sta per essere messa in acqua attraverso questi giganteschi gru. bene денersi daveneto e quindi via steht in acqua in siti del me challenge per farla! Levanse di metà è mangiare aele ins processo in acqua attraverso questi giganteschi di scuитare, di fare dannere, via Informatiche, offrillo delle g Matte delle gantlyge, messi da Ponte della Libertà ai rai e raialia через sal jaki fare una campagna di venti vengono le due gruppe di piccolo tutti questo casi in attraverso logende principale cheep染ate in quel momento di Chiaria olha tutti i lati e delle campagne in vacantari sul Questa per essere messa in acqua, rimarcazione numero 14 come già detto. Sono 150 equipaggi che concorreranno oggi a questa edizione, ricordiamo che non sono scuderie italiane, tra cui quelle pavesi della motonautica Pavia e di Chignolo, ma anche piloti e scuderie da tutto il mondo. Ci sono piloti statunitensi, da Sudafrica, dagli Emirati Arabi e poi in Europa provenienti anche da Austria, Svizzera, Scandinavia, Belgio eccetera. E tante squadre anche italiane, mancabili quelle di Pavia e di Venezia, poi Como, Parma, Carmona, Milano e così via. Il canto è stato messo in acqua, anche la barca numero 14 si procederà così. E poi partenza verso il ponte della Becca dove ci sarà la vera e propria partenza con cronometri. Sono tre le tappe a cronometro, Ponte Becca, l'isola Serafini, l'isola Serafini, Sissa di Torricella nel Palmenze dove ci sarà Pit Stop, la sosta a rifornimento, poi la lunghissima terza tappa cronometro da Sissa fino a Polta Grimana nei pressi di Porto Viro, sul delta del Po. E infine l'ultimo trasferimento attraverso il canale interno che collega il fiume Poco, il fiume Adice, il fiume Brenta e la laguna di Chioggia. Traguardo per tutti i concorrenti tranne i vincitori che invece proseguiranno in parata all'interno della laguna Veneta fino all'arsenale di Venezia e dove ci saranno questa sera alle 18.30 al Salone Nautico la premiazione dei vincitori della 71esimo ride di Motonautica Internazionale, Pavia Venenza. Ponte vediamo che un'altra barca sta per essere messa in acqua, si tratta da numero 227, pilota Cristiano Brussa. E dal lungo Ticino di Pavia, zona mono della motonautica, l'ascensione motonautica pavese, punto della libertà, per il momento è tutto, restate con noi per le prossime dirette che continueranno per tutta la mattinata di oggi per seguire questa importantissima gara di Motonautica. per scendere fino al ponte da Becca, dove ci sarà la vera partenza. Intanto ecco numero 49. che sta per essere messa in acqua con concorrenti e due piloti due dei tantissimi piloti che stamattina ricordiamo si saranno i 413 km di ride Pavia-Venezia un momento molto importante nel panorama della motonautica mondiale la cui partenza da Pavia mancava da tanti anni per problemi di carenze idriche poi c'era stata anche la sospensione dal 2011 fino al 2021 invece per motivi completamente economico organizzativi ma oggi domenica 2 giugno il raid torna a partire da Pavia che per anni, per quasi un secolo ormai si corre dal 1929 è stata la naturale casa di questa bellissima corsa di Motonautica e con altre imbarcazioni che vengono messe in acqua con i piloti che tipo questa della scuderia britannica la numero 172 la che ora sta prendendo a largo e si avvia verso il ponte della becca molto bello anche nella imbarcazione numero 49 Monte Carlo Offshore che sta per essere sganciata e liberata problemi tecnici per il concorrente invece che vediamo scrutare pensieroso il motore del suo racer che poco fa non si metteva in moto una brutta notizia per lui alcuni appassionati per i lavori ma anche sportivi presiedono già di Argino nel fiume Ticino per assistere alla messa in acqua delle imbarcazioni partiranno prima quelle più lente fra virgolette mentre i pezzi da 90 tipo Guido Cappellini che corre per gli Emirati Arabi Uniti per la Abu Dhabi Team favorito numero 1 partiranno invece nel corso della per il corso della mattina per il corso della mattina per ora rendiamo ancora a restare sintonizzati su questa pagina per nuovi aggiornamenti che daremo in maniera assidua durante il corso di questa lunga mattinata di sport e di motonautica a più tardi gall DC a più tardi vent� a più tardi a più tardi a più tardi sempre in diretta dal Ponte della Libertà, questa volta continua l'alaggio delle imbarcazioni in Ticino e i primi trasferimenti verso il Ponte della Becca dove ci sarà lo start vero e proprio per tutti i 150 equipaggi di questo 61esimo ride per via Venezia alle ore 8 di mattino sono già qualche più curiosi rispetto a un'ora fa che affollano il Ponte ma anche le sponde del lungo Ticino comunque un consiglio per chi resta in città è quello di affacciarsi al fiume e vedere sfidare in passerella questi bolidi e campioni della motonautica nazionale e internazionale ci spostiamo fra poco come punto di osservazione al un po' più valle al Ponte della Becca dove inizia ricordiamolo la prima delle tre tappe cronometro di questa lunghissima corsa da Pavia a Chioggia e a Venezia 413 km tutte in acque interne il Medicino Fiume Po canale di Po a Brondolo la corsa più lunga del mondo in acque interne e quanti concorrenti che si apprestano a partire sono partiti in direzione Ponte della Becca per la partenza vera e propria ne state collegati con Pavia pagina Pavia Play TV per altri aggiornamenti in questa lunghissima mattinata di motonautica e di sport ricordiamo che le partenze da Pavia proseguiranno fino alle ore 11 11.30 trasferimento scaglionato fino al Ponte della Becca e da lì in poi Raid spettacolo con questi bolli capaci alcune classi di sfrecciare fino a 200.000 all'ora e state sintonizzati in diretta dal Ponte della Becca presso di Pavia un petto di tifosi che a Milano passaggio scaglionato dell'imbarcazione appena passata la numero 227 e qui per tutta la mattina dovremo sfrecciare le barche dirette a Chioggia segnalato segnalato il punto dove le barche devono passare inizia la prima tappa cronometro a a la a 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 Grazie. 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 Un corridore. Intanto arriva sempre più gente ad assistere al passaggio dei corridori della sottotesimo raid a Pavia-Venezia. Grazie. 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 Si parlava fra i tifosi di Vido Cappellini che 10 volte è campione del mondo di Formula 1 motonautica che ha già dichiarato non solo di voler vincere questa edizione ma anche di battere il record assoluto che risale ancora a Dante Zantelli di una ventina di anni fa. che lo fece i 413 chilometri da Pavia Venezia in poco più di due ore, due ore e qualche minuto quindi Comasco Guido Cappellini che corre per la Abu Dhabi Team degli Emirati Arabi Uniti dovrà non solo arrivare prima ma anche viaggiare a una velocità media di oltre 200 chilometri orari per poter fare il record poi ci sarà tutta la gara di tutti gli altri piloti, concorrenti, scuderie qui noi facciamo un grosso in bocca al lupo ai piloti pavesi da Alberto De Uber a tutti gli altri augurando comunque loro di primeggiare nelle rispettive classi di appartenenza ricordo siamo al ponte della Becca di Pavia start della prima delle tre tappe cronometro di questo raid da qua fino a Isola Serafini un centinaio scarso di chilometri dove c'è la diga di sbaramento del fiume Po accanto c'è la conca dove i concorrenti dovranno infilarsi aspettare che delle chiuse li portino a livello dall'altra parte per poi proseguire verso Torricella di Sissa nel Parmense, pit stop, rifornimento carburante e infine l'ultima grande tappa la Torricella di Sissa fino a Porto Viro nel basso Polesine è già il red quindi sarà visibile dagli argini di tutti i fiume Po non sono quelli pavesi ma anche Pecentini, Lodigiani, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Mantua Ferrara e Rovigo e poi chiaramente Venezia siamo in attesa del passaggio della prossima imbarcazione passa più o meno una barca ogni 5-10 minuti l'umore si sente già dalla curva dell'imbarcadero idrometro subito dietro il ponte della Becca e ne miriamo sfrecciare a tutta Birna qui dove Ticino e Po diventano la stessa cosa dove comunque il Ticino si butta in Po ecco il rumore un altro concorrente che sfreccia velocissimo in direzione Venezia commenti positivi nel pubblico presente per assistere qui a ponte della Becca luogo di culto non solo sportivo per oggi ma anche in passato set cinematografico di film degli anni settanta il genere poliziottesco impossibile non ricordare il mitico duello finale è un film squadra volante che si girò proprio qui proprio qui sotto tra Thomas Millian e Adolfo Celi dopo la Tour Eiffel è la seconda costruzione di ferro più grande del mondo unisce Sponda Pavese con quella oltrepadana dell'oltrepo orientale proprio dove il Ticino confluisce nel grande fiume Po il vello dell'acqua è molto alto vedete che di solito di fronte a questo punto c'è sempre un isoletto un sabbione che invece in questa settimana è stato sommerso dalle abbondanti piogge i concorrenti comunque sfrecciano arrivando dal Ticino e passano praticamente nel corso principale del Ticino davanti alle case galleggianti le caratteristiche case galleggianti che ci sono in questo punto di fiume e si gettano un po' un po' più avanti praticamente davanti alla famosa spiaggione spiaggia libera di Mezzanino Po e lì inizia la l'autostrada praticamente come viene chiamata finisce il Ticino lo stretto un po' largo ma attenzione perché tante ansie soprattutto le parti di Chignolo potrebbero riservare qualche insidio anche i piloti più esperti e non dimentichiamo che questo tratto di fiume è il più impegnativo perché bisogna conoscerlo bene dalle parti di portalbera c'è il famoso zoccolo un piccolo affioramento dell'appennino che arriva nel punto più vicino ci come può dalle parti di stradella bisogna passare stando a sinistra il più possibile altrimenti la gara rischia di finire prima di iniziare con un altro concorrente che passa in questo momento un po' di bordo due posti molto bello molto affascinante l'Aipola l'ingenzio interinale per il primo po' nei giorni scorsi ha dichiarato per tutte le province di Verasche il divieto assoluto di navigazione per oggi domenica 2 giugno per le imbarcazioni private ovviamente di tanti pescatori che condizioni normali in altri giorni dell'anno ovviamente girano ed escono sul fiume oggi tutte sulle sponde ad ammirare il passaggio dei bolidi della Formula 1 motonautica che partecipano al 71esimo raid Bavia-Venezia che con i suoi 413 chilometri di distanza di velocità di abilità di anse curve sabbioni eccetera eccetera è la corsa fluviale in acqua interna più lunga del mondo è stata soprannominata dai detti ai lavori da riviste estere addirittura specializzate come la Parigi Dakar fluviale soprannome molto azzeccato soprattutto per la prima parte quella proprio quella pavese stiamo in attesa qui sempre collegamento pontella berca e passaggio del prossimo concorrente vediamo gli alaggi messi in acqua sono iniziati stamattina presto alle ore 7 potete vedere le altre dirette pubblicate sulla nostra pagina facebook pavia play tv i primi trasferimenti sono iniziati praticamente a quell'ora poi come punto di ripresa ci siamo trasferiti qua qualche minuto fa dove qui si possono comunque vedere le imbarcazioni sfrecciare forte mentre pavia per motivi legati anche al parco del Ticino non è più possibile fare comunque una partenza vera e propria da anni oltre quindi ai problemi di carenza idrica il vero start è qui al ponte della becca comunque continua ad arrivare sempre più gente per assistere vediamo la linea fino al prossimo concorrente che sfreccerà qua davanti a noi poi ovviamente faremo altre dirette nel corso della mattina meglio deve ancora venire il meglio arriverà in tarda mattinata quando ci saranno i campioni ma la gente beh compreso ovviamente ne aspetta ne aspetta solo uno in particolare l'astronave motonautica di Guido Cappellini un gigantesco bolide d'acqua che per vincere e fare il record non dovrà essere soltanto più bravo di tutti gli altri concorrenti ma dovrà viaggiare a una velocità media superiore a 200 km orale nelle tre importanti tappe Guido Cappellini dieci volte campione del mondo il campionato di formula 1 motonautica esperto pilota anche di altre corse come la Venezia Monte Carlo gara molto importante nel panorama della motonautica internazionale vediamo se riuscirà però a domare il Cimeco ha già partecipato a questo raid nella passata edizione però che è partita da San Nazaro di Ongina vicino Monticelli di Ongina zona Caorso per intenderci quindi dopo Acenza dove c'è un locale motonautica per i problemi di siccità che l'anno scorso in questo periodo affliggevano i fiumi Ticino e Pau pavesi quindi che quest'anno sono stati spazzati via dalle abbondanti piogge delle settimane scorse e dei giorni scorsi che hanno continuato comunque a rendere il livello del fiume ottimale per ripetere finalmente dopo tanti anni la partenza del raid da Pavia così come l'ho sempre stato nella sua storia quasi centenaria prima edizione si corse nel 1929 si proseguì fino allo scopio della seconda guerra mondiale poi qualche anno di pausa si rifrese negli anni 50 si disputò più o meno in maniera ininterrotta fino ai primissimi anni 10 l'ultima edizione fu del 2011 poi ci furono due lustri un lungo decennio senza più che questa competizione si disputasse nel 2021 è tornata nel 2021 2023 nel 2022 sono spesa per covid ma con partenza dalla provincia di Piacenza invece oggi come già detto la partenza è qui da Pavia ci sono stati moltissimi eventi in questi giorni in città sfilata di alcune imbarcazioni sfilata di imbarcazioni vestite a festa che hanno sfilato su carrelli trenati da macchine jeep lungo le vie del centro storico avete assistito alle nostre dirette che abbiamo fatto venerdì pomeriggio e poi inaugurazione in grande stile in Santa Maria Gualtieri sempre nel pomeriggio di giovedì con proiezioni di filmati e anche esposizioni di foto storiche del raid dal primissimo raid del 1929 quando pensate che il concorrente vincitore ci mise qualcosa come 12 o 13 ore per percorrere tutto il pregitto ideizzato dall'ingegnere Vincenzo Balsamo e organizzato all'epoca per i primi anni dalla motonautica Milano prima di passare sotto l'ecita di quella pavese e poi di quella di Venezia con la collaborazione di quella di Venezia negli ultimi anni dalle 11-12 ore di quasi 100 anni fa i piloti più forti adesso ci mettono poco più di due ore a correre a sfrecciare sull'acqua del Po a velocità incredibile e pazzesca vediamo se oggi Guido Cappellini riuscirà addirittura a scendere sotto le due ore sentiamo il rombo di una nave eccola per imbarcazione scusate ecco il nuovo concorrente numero 124 bene andrà avanti passaggio passaggio della barca andrà avanti per tutta la mattina fino indicativamente 11-11 e mezza assisteremo la sfilata di ricordiamolo dei 150 equipaggi internazionali provenienti da tutto il mondo da tutti i continenti ci sono piloti dagli stati d'america dagli emirati arabi da sud africa e molti paesi europei oltre che le scuderie italiane qui pavia e chi ne lo può abbarcazione numero 208 il pilota molto aggermente si butta sulla parte sinistra del fiumo là dove c'è il canale vero e proprio per evitare di toccare di là e dopo quell'ultima ansa c'è la vera confluenza del po' la gente parte dalla gente venuta qui a questa ottimale posizione giù alla becca per assistere ai bollidi di Formula 1 botonautica che sfrecciano in maniera scaglionata ogni 5-10 minuti un evento che ricordiamo non cadeva più almeno a queste longitudini da tanti anni quasi una ventina che il raid non partiva da Pavia e che quindi non sfrecciava neanche più dagli argini pavesi oltre a questo ricordiamo più la valle il marcadero di Portalbera il tracco di Parpanese la spiaggia di Zerbo il barcadero Olona di San Zenone tutti ottimi punti il ponte di Spessa quello di Pieve Portomorone tutti ottimi punti dove poter ammirare la manifestazione sportiva in corso iniziata questa mattina alle ore 7 dall'associazione motonautica Pavese nei pressi del Ponte della Libertà sul Piumeticino Pavia con l'alaggio e la messa in acqua delle tantissime imbarcazioni ci sono fuori bordo moto d'acqua racer che si sfideranno anche all'interno delle proprie classi di appartenenza per cercare di arrivare nei primi posti di categoria ed essere fra quelli fra i pochi le 150 equipaggi che potranno fare la parata finale da Chioggia fino a Venezia dove stasera alle ore 18.30 presso il Salone Nautico in corso in questi giorni avrà la premiazione del vincitore assoluto del secondo posto assoluto terzo posto assoluto dei primi tre posti per ogni classe della Coppa Montelera che viene assegnato oggi al pilota che nel subtratto da Revere del Mantovano fino a Ponte Lago Scuro Ferrara realizzerà quel tratto a una città media superiore a quella di tutti gli altri la Coppa che viene stata sempre assegnata nel corso di questa manifestazione fin dalle prime edizioni in onore del Conte Teorossi di Montelera il concorrente che vince questa Coppa gli sarà donata anche la testa d'autore che è stata anch'essa una scultura che è stata presentata anch'essa venerdì pomeriggio la presentazione del raid di Santa Maria Gualtieri fa via intanto sentiamo la dietrolanza dell'idrometro che sta per sfasficiare le nuove concorrenti qualche problemino con questi filotti mi sembra tutto a posto subito dietro altri un'altra imbarcazione numero 112 che saluta il pilota saluta molto sportivamente rimanete collegati alla nostra pagina che vi daremo maggiori altri aggiornamenti video nel corso della mattinata qui su Paglia Play TV dal Ponte La Becca del mio concorrente e tutto per il momento a sentirci i prossimi minuti spettacolare il passaggio della numero 75 di Novuzzi un passaggio veramente spettacolo questo questa imbarcazione quando passano in mezzo a quei due cose lì ci sono degli ufficiali di gara che schiacciano un tasto da parte da lì e ora vediamo passare la prima moto un po' d'acqua della gara della gara un po' di di lì Grazie. Amici sportivi di Pavia PreTV, siamo sempre in diretta dal Ponte della Becca, dove adesso veramente tantissima gente è arrivata nell'ultima ora, guardate, tanta gente, tanti appassionati di motonautica qui per assistere al passaggio dei concorrenti, dei 150 concorrenti, tanta gente, molti ovviamente sono partite scaglionate le imbarcazioni, tipo rally, prima le imbarcazioni più lente, adesso stanno iniziando a passare quelle più veloci, come l'ultima che abbiamo immortalato, questo è il punto, bello in mezzo, tra i due segnavia, che praticamente inizia segnala la prima tappa cronometro, i concorrenti vengono giù da Pavia, sul Ticino, passano lì in mezzo, come in questo caso, vi facciamo vedere, ci sono, ecco come adesso, ci sono degli ufficiali di gara più giù che fanno scattare il cronometro, il primo di tre, Ponte becca Isola Serafini, Torricella di Sissa nel Parmense, Sissa, salutiamo un tifoso, un amico di Pavia Play TV, Sissa Volta Grimana in Folesine per la terza, poi il trasferimento verso Chioggia, attraverso il canale, un po' di Brondolo, quindi sfettiamo un altro mito, non verrà percorso, aspettiamo un altro falso mito, non verrà percorso su un tratto di miglia marina, ma si svolge tutto all'interno, questa è la sede degli ufficiali di grada che ufficiali di gara che prendono, danno il via al cronometro, molta gente aspetta con ansia del passaggio di Guido Cappellini, italiano di Como, pilota però per la scuderia degli Emirati Arabi, Labdabi Team, favoritissimo numero uno, che vinse anche l'edizione scorsa, quella del 2023 che però partì da Monticelli-Dongina nel Piacentino vicino a Cavorso, oggi invece sono 100 km in più da fare, perché parte da Pavia e il fiume può, soprattutto nel nostro tratto, può riservare problemi e rendere la gara più impegnativa per chi non conosce bene il fiume. L'edizione del 2022 non si disputò per via del Covid, l'edizione del 2021 che partì sempre da Monticelli-Dongina, località San Lazzaro, invece fu vinta dal veneziano pilota Carli dalla scuderia veneziana, quello fu la prima edizione dopo la sospensione durata a 10 anni dal 2011 in poi. Il record appartiene sull'intera tratta Pavia-Venezia, appartiene a Dante Zantelli, due ore e pochi minuti, realizzato nei primi anni del 2000, con una velocità superiore a 200 km orari, un record che oggi potrebbe essere battuto, perché lo stesso Cappellini ha dichiarato che non vuole soltanto vincere e arrivare primo, ma vuole segnare un nuovo record sotto le due ore. Tantissima gente qua, molta arrivata negli ultimi minuti. C'è grande attesa per il passaggio del campione del mondo, 10 volte campione del mondo di Formula 1, motone autica Cappellini. Un'altra imbarcazione è la 173, adesso stanno sfrecciando le marche sempre più veloci man mano e speriamo che il tempo passa, il raid comincia ad entrare un po' nel vivo del suo spettacolo, la gente apprezza, riprende, fa le foto, si diverte, c'è grande passione, è venuta anche a grande attaccamento che abbiamo noi pavesi, comunque verso i nostri fiumi. Speriamo che si ripossa ripetere un po' più spesso, l'ultima volta che partì da Favia fu quasi 20 anni fa, un'eternità per una città che comunque ha sempre vissuto di fiume e di sport, di fiume, come la canoa e il canottaggio che hanno regalato campioni a livello mondiale. Ricordiamo che tutte le imbarcazioni a questo giro vengono calate in acqua dalla sede della motomautica, già stamattina alle 7, sono partite le prime imbarcazioni, i piloti sono 150, le imbarcazioni sono un po' meno. Percorrono a una velocità moderata il tratto del Ticino, filano per la città di Pavia che comunque già stamattina a quell'ora aveva chiamato già molti curiosi ma anche sportivi così che volevano assistere al passaggio del raid, si scende verso l'imbarcadero di Travacò e poi sono già le prime due anse a belle a gomito prima di riuscire a intravedere il ponte di ferro della Becca dove, ricordiamo, davanti a noi c'è lo start, i concorrenti iniziano ad accelerare più o meno dove c'è l'imbarcadero idrometro appena prima della Becca in modo da passare già a grande velocità dallo zero dove i ufficiari di gara prendono il tempo. Poi il Ticino continua abbastanza regolare fino ai confini della provincia di Pavia ma bisogna stare attenzione nelle parti di Portalbera perché ci sono degli affioramenti dovuti all'Appennino Pavese che arriva molto vicino al fiume Po in condizioni normali, anzi c'è il serio rischio di toccare sotto, bisogna tenersi sulla sinistra a quel punto, dopo il punto di Spessa, piove di Ponto Morone, poi verso Chignolo Po le prime vorticose anse, prima di arrivare a Piacenza e dopo a Isola Serafini, fine della prima trappa conometro dove c'è la famosa diga, c'è una conca accanto, le barche entreranno lì poche per volta e vengono abbassate di livello, piano, piano, lentamente. Seconda tappa è fino a Torricella di Sissa nel Parmense, tappa di fornimento carburante e poi via nell'ultima lunghissima tappa fino a Porto Viro in Polesine, quasi sul delta del Po, poi da lì canale Po di Brondolo verso il fiume Adige, poi verso il fiume Brenta e verso Chioggia dove finisce il raid vengono proclamati i vincitori, vincitore assoluto, i primi tre classificati in assoluto, i primi tre classificati per ogni categoria e il vincitore della Coppa Teorossi di Montalera, uno storico pilota degli anni 30, vinso il secondo raid, viene data a chi realizzerà nel minore tempo possibile la distanza, il sub tratto fra Revere nel Mantovano e Ponte Lago Scuro, sul borgo di Ferrara, un bel tratto dove non devono aversi difficoltà, le maggiori come già detto sono qui nel tratto pavese, poi non è che basta schiacciare il pedale però comunque il Po è veramente, metterà alla prova diciamo i piloti e anche con gli esperti nel tratto da Pavia a Piacenza. Teniamo il collagamento fino al prossimo passaggio di qualche imbarcazione, poi ci ricollegheremo più tardi quando magari sfricceranno i racers e il tanto atteso Guido Cappellini, un po' il numero uno al mondo della motonautica. Eccola lì, ci siamo, imbarcazione numero... lasciamo a leggere... velocissime, ora passano tutte imbarcazioni molto veloci che danno segno di spettacolarità. Bene, per ora è tutto, ci vediamo più tardi, state collegati alla nostra pagina Facebook dove poi daremo nuovi aggiornamenti in diretta qui dalla becca, inizio, start della prima delle tre tappe econometro di questa settantunesima edizione del RAID in motonautica Pavia, Venezia. A più tardi, la vostra prima non fallo niente. non andava meglio. Non andava meglio. Sembra la terza, perché non pensavo che la passata... Il nostro canale è www.mesmerism.info Il nostro canale è www.mesmerism.info La vecchia la ottica Mauno Mazzarini La scuderia di Cremona Mauno Mazzarini in questo momento uber, è un uber questo? è un uber Alberto De Uber un altro pilota pavese che corre per le gambiane di Chigliolo Pog buongiorno, siamo in diretta dal Ponte della Becca per vedere il passaggio dell'ultimo concorrente di questa 71esima edizione si tratta di Guido Cappellini in grande attesa per lui partito per ultimo fra poco trasinterà è arrivata la notizia poco fa che è partito dalla sede della motonautica a Pavia, fra pochi minuti sfreccerà qui davanti al Ponte della Becca l'ultimo concorrente atteso vuole vincere il raid come l'anno scorso l'anno scorso però il raid partì da Piacenza quest'anno parte da Piavia e vuole anche battere il record di Dante Zantelli che risale una ventina d'anni fa due ore e pochi minuti per farlo dovrà iniziare da qua a gareggiare una velocità media superiore ai 200 km orari nel frattempo sono arrivate anche purtroppo delle brutte notizie i due concorrenti vavesi Valzarini e Romagnoli pare siano fermi a Chignolo le gambiane di Chignolo forse dei guai al motore per loro purtroppo il raid il santunesimo raid è finito ancora prima della prima tappa mentre l'altro concorrente Alberto De Paveso Alberto De Huber che corre proprio per la scuderia di Chignolo pare sia arrivato al termine della prima tratta che no cronometro isola Serafini è in attesa come molti altri di attraversare la conca per il dislivello dovuto al diga ancora qualche minuto di attesa ricordiamo questa sera la premiazione a partire dalle ore 18.30 se non è molto nautico di Venezia intanto si sente arrivare dietro Ponte La Becca rumore potrebbe essere il dieci volte campione del mondo di Formula 1 Guido Cappellini grande grande attesa per lui soprattutto per la sua imbarcazione della scuderia degli Emirati Arabi è lui eccolo qui grande atteso grande protagonista seguito dall'elicottero è la Guido Cappellini è la velocità superiore ci dicono ai 110 km orari come farà di meglio per battere il record ma la tappa cronometro inizia da qua da questo momento quindi bocca al lupo a tutti i partecipanti moltissima gente sfollata da questa mattina comunque il raid per Pavia finisce qua grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito da stamattina presto alle 7 mi ricordiamo i concorrenti ormai sono tutti si trovano tutti fra Pavia e Isola Serafini tra poco inizierà la seconda tappa cronometro da Isola Serafini a Torricella di Sissa e poi l'ultima a Torricella di Sissa Porto Viro infine trasferimento a Chioggia tappa di trasferimento a Chioggia dove saranno programmati i vincitori poi parata finale per i vincitori vincitori assoluti i primi tra classificati per ogni categoria verso Venezia Arsenale Salone Nautico dove dalle 18.30 inizieranno le premiazioni di questo 71esimo raid Pavia Venezia un grande spettacolo soprattutto di pubblico di appassionati di motori ha tirato tanti curiosi è stato tutto molto bello che noi di Pavia Play TV abbiamo seguito per voi documentandovi le prime partenze da Pavia stamattina presto e poi il passaggio qui al Ponte della Becca veramente dove alcuni piloti sono stati hanno dato momenti di raid spettacolo soprattutto i racers la categoria di Alberto di Uber la gente abbandona piano piano Ponte della Becca contenta e soddisfatta ora il raid si sposta sempre più verso est verso le province dalle Emilia Romagna del Veneto per poi terminare questa sera in provincia di Venezia da Ponte della Becca è tutto da Mirko Confaloniera per Pavia Play TV Pavia Play TV accendi il tuo territorio e la fine